La macchina di uomini e donne non accenna fermarsi. Ecco chi sarà la terza protagonista del trono classico del celebre dating show. A quanto pare per oggi le sorprese non sono ancora finite sul fronte uomini e donne. Pochi minuti fa infatti Witty TV ha pubblicato il terzo video presentazione dei nuovi protagonisti del dating show. Questa volta si tratta di una donna. Sarà infatti Manuela Carriero la terza tronista della prossima edizione della celebre trasmissione di Mediaset. La ragazza, a differenza dei primi due protagonisti del trono classico, è già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2021. All'epoca Manuela era fidanzata con Stefano Sirena, ma grazie a quell'esperienza capì di non amarlo più e uscì dal programma da single. Successivamente ha intrattenuto una relazione con l'ex tentatore Luciano Punzo. Ma adesso che la loro love story è giunta al termine la ragazza si è detta pronta a ritrovare l'amore all'interno del programma condotto da Maria De Filippi. Il video presentazione di Manuela, è sicuramente diverso rispetto a quello degli altri due tronisti. La ragazza infatti anziché parlare direttamente alla telecamera, ha scelto di scrivere una lettera e di leggerla con voce fuori campo. Nel corso del filmato Manuela spiega che, dopo la fine della sua relazione, ha scelto di vivere a Roma e afferma di essere molto introversa, timida, sensibile e romantica. Parlando delle sue passioni dice di apprezzare molto i film d'amore, il ballo, la cucina e il canto, che pratica ogni tanto per divertimento.